guardate la bellezza delle criniere di questi due cavalli giovani eh guardate qualche tempo fa c'era anche un redo erano tre evidentemente poi il giovanissimo è stato allontanato venduto come mi fermo si avvicinano a me spesso gli porto qualcosa ma ora no stanno mangiando guardate foglie fresche sembrano pampini di uva ma non lo è invece quello questo che sta stracciando questo davanti sono quelle che bucano che belli animali che bella bestia stanno un accanto all'altro però il muso davanti e muso laterale quindi si incrociano praticamente cavallini domani quando passo vi porto qualcosa che bellezza che bellezza che bell'animale è che il cavallo ciao a domani grazie a tutti grazie a tutti